Sì, è tutto ok. È venuto a vedere come sta. Non sta bene. Il sangue non ha fluito alla coda per parecchio tempo. Quando tutti sono convinti di aver visto l'impossibile, non hanno ancora visto niente. Sta avvenendo un miracolo. Tratto da un'indimenticabile storia vera. Un'amicizia grande come il mare. L'incredibile storia di Winter il Delfino. Questa sera alle 21 su 27.